Navarro, Totti, Toni, Grosso E' pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva Go! Materazzi! Go! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Fabio, ma l'avevamo dimostrato subito perché la squadra è viva, c'è, sta benissimo in campo Sfruttare le palle da fermo, loro sono disattenti, non riescono a marcare bene come marchiamo noi Bravissimo Marco Materazzi Secondo gol nel mondiale per Materazzi, 1-1, l'abbiamo ripresa subito, 19 minuti E con grande merito, viera sempre lo stesso difetto anche nel nostro campionato Si fida troppo della sua altezza, non sente mai l'uomo, Materazzi stacca meglio di lui